ciao a tutti da me grande e potente odds sono su kube world come vedete ho creato il grande e potente odds mago e un elfo andiamo nella world odds vediamo come funziona il maghetto dato che sono le grande e potente odds dovrebbe essere forse il maghetto si carica ah c'ho mp già 100 questa sarebbe la magia quindi succede carica ah è notte oh e come faccio di notte cosa c'ho qua questa è iron lampa come attivo la iron lampa l attivo la iron lampa l allora leek si fa la luce proprio people allora proviamo con la pacchetta allora fire il tasto destro fire vortex boh so così di notte camminiamo e non vediamo un accidente f il 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 Ah, abbiamo la fiaccola dall'altra porta. Oh, bocca! Aspetta, non so come usare la tua ta, così. Mori! Forte, figo! Sì! Ma dobbiamo curarci. Wow! Fidavokas. Fidavokas dura? È dura, è 30, mi sembra. Questo? Ma questo non costa niente. Cosa fa è? Vedete un'altra cosa. Allora. Leak special item. La G. Cal pet. Non abbiamo un animale. G. Non abbiamo il G. Cosa abbiamo qua? Ring the... Allora, limit. Left ring, left ring. Ah! Dove ho schiacciare left ring? No. No. Shift, walk, free, aim. Control, clean. Allora, control e shift. Allora, shift. Ah, cambia. Control. Allora, x-skill. Craft, crafting. Ah! World, wood. Questa va da... Cos'è? Una torcia. World, wood, wand. Questo è un... World, cube. E cosa ci sia bisogno? Niente altro? Beh, non lo vedo. Non possiamo farlo. Qui. Scattered skill cast armor. Non possiamo... Cos'è ci vuole? Devo scoprire qua. Questo non possiamo fare niente. E la bottiglia dove c'è? Come creo la bottiglia? Bottiglie di acqua. Come faccio la bottiglia? Non c'è cazzo la bottiglia. Va bene. Inventory. Board map. Use quit item. Select quit item. Use abilità. Ah! Uno, due, tre, quattro. Use abilità. Ah! Ma io non ho abilità. Oh, oh. Chi è? Oh. Era davvero forse. Ah, io ero pure malandato. Allora, abilità non ne ho. Escreverò. Pick interact. Ok. Allora, accendiamo la luce. Ah, mappa. Si è fatto male. Si è fatto proprio male. Chi sa chi era quel mago? Quello di potente. Niente si è integrato. Allora, xpc non ho quattro. Devo arrivare a cinquanta per passare di livello. Ahia, un'altra botta. Cos'è? Dusty Wood Stuff. Per fare che? Aspetta, vediamo. Cos'è questa? Damage 8. La nostra bacchetta magica Damage 8. HP5 ha scritto un 1,3. Questa? Questa è una Wood Band. Ah. Damage 8. HP5 è uguale. E questa? Ah, questa non l'abbiamo trovato. Damage 8. HP 3.5 Ah, cioè ehm HP. Damage 8. HP 3.5 Questo invece è 5. Vabbè, questa è basta. Cosa la vendiamo? Allora, Wood Stuff. Non ho capito questo a che servono. Cest. Ah, questo ci mette la cest. E non abbiamo cest. Abbiamo un fun... Cos'è? Non so cosa si chiama. Questi sono ingredienti e non abbiamo un cane. Vabbè. Ole. La sensazione o si sta aggiornando? Mi sembra di sì. Ecco, se no, vedo un accidente. Cos'è fa saltare? Oh! Ah, stamina! Per parare? E' un'accappamento, un'accappamento. Ma è possibile tipo dormire tutta la notte? Così attiva? R. Schiacciano a vedere? Non dorme tutta la notte? Così svegliate al 100 da mattina? No. Il cazzo del tempo dovrebbe andare più veloce? Aspetta, aspetta, forse... D3, D4, D6, D7, D8... D6, D6, D7, 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 D6, D7, 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 D7. Grazie a tutti.